Abdul Farouk non deve essere stradato perché in Pakistan, suo paese d'origine, rischia la pena di morte. E' questa l'istanza presentata dal legale del quarantenne che il 14 marzo era stato arrestato poiché ricercato dalle autorità pakistane per l'omicidio di un suo connazionale avvenuto nel 2014 a colpi di arma da fuoco. Abdul, residente a Foggia da 2007 ed in Italia da 18 anni, si trova oggi nel carcere del capoluogo. Adesso sarà il Ministero della Giustizia a doversi esprimere sull'estradizione di Abdul Farouk. Una misura contraria all'ordinamento giuridico italiano, secondo l'avvocato Mario Aiezza, dal momento in cui il Pakistan punisce con la pena di morte chi si macchia di omicidio. A consentire l'estradizione dunque significerebbe mandarlo a morire. Riteniamo che non possa essere comunque consentita l'estradizione in uno Stato per un reato che prevede la pena di morte. In questo caso l'omicidio in Pakistan è punito con la pena di morte. Il nostro ordinamento non consente all'Italia di poter mandare un cittadino in uno Stato per essere condannato a morte, oltre che non consente l'estradizione in Stati che ad ogni modo non garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali. Quindi riteniamo che ci siano i presupposti per rimettere immediatamente in libertà il soggetto e poi successivamente per opporsi alla richiesta di estradizione. Farouk si dice estraneo alla vicenda, vive in Italia dove è titolare di un esercizio commerciale ed è anche il presidente dell'Associazione Pakistani a Foggia. Se dovesse essere dato l'ok alla sua estradizione rischierebbe la pena di morte. L'auspicio è che il ministro possa avvedersi prontamente di questa situazione nel rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali dell'individuo.